Stante che quest'uomo ha cominciato a dirigere la cosa pubblica non da solo nel 43 avanti Cristo e ha smesso morendo nel 14, quindi per 57 anni, è in assoluto colui che ha governato più a lungo di tutta la interminabile serie degli imperatori. E da solo, comunque dal 31 avanti Cristo, dopo la battaglia di Azio, quindi dal 31 al 14 sono ben 45 anni e questo ovviamente poteva anche essere un auto auspicio in quel momento. Soggiungiamo, lasciando perdere il tono un po' leggero e scherzoso, soggiungiamo che molto lavoro utile fu fatto in quella circostanza e ci fu una mobilitazione mediatica colossale. Tra qualche mese, spero, sarà pubblicato un libro a cura della Fondazione Corriere della Sera che contiene una scelta, neanche la totalità, una scelta degli interventi apparsi su quel quotidiano dal 1876 alla Seconda Guerra Mondiale e il 37 è occupato quasi per intero dalle celebrazioni augustee. Edizioni molto ben fatte delle resegeste furono pubblicate e soprattutto ci fu una auto-identificazione non immotivata del regime con il modello augusteo di mobilitazione della cultura. Quindi c'è da dire che lo specchio in cui il regime si contemplava non era uno specchio deformante, era una scelta e vedremo anche tra breve come fondata. però la domanda che io vorrei porre prima di addentrarmi in questa analisi è Augusto ha vinto la partita con la storia è sempre una domanda stravagante ha costruito una storiografia su sé medesimo, certamente. Per un verso, nell'anno 1925, quando ormai ha vinto su tutta la linea ha anche tentato di completare la conquista della Spagna sempre indomita ha finto di restaurare la Repubblica quindi ha vinto su tutta la linea scrive commentari di vita sua di cui si è detto poc'anzi. anche lì il modello Cesare funziona perché i commentari sono l'opera letteraria, politico letteraria di Cesare forse la prosa più riuscita della letteratura latina di tutti i tempi quella dei commentari cesariani il modello funziona perché Cesare ha messo insieme otto commentari sulla guerra gallica due, non tre sebbene la tradizione manoscritta suddivida in tre ma sono due in realtà i commentari sulla guerra civile e poi ci sono tre commentari non di Cesare ma scaturiti dall'entourage di Cesare che riguardano la guerra di Alessandria la guerra di Spagna la guerra in Africa e la guerra di Spagna quindi sono tredici in tutto e Augusto mette insieme tredici libri di commentari di vita sua quindi il numero è certamente intenzionale perché? perché c'è questo grandissimo modello alle spalle che è stato il fulcro di tutta la sua azione politica questo accade nell'anno 25 noi non abbiamo questo libro quest'opera che era indubbiamente imponente come ampiezza ma abbiamo molti frammenti e credo si possa dire ma non sono il solo a sostenerlo che anche l'opera sulle guerre civili romane di questo storico egiziano di lingua greca che si chiama Appiano vissuto al tempo di Antonino Pio più o meno i primi tempi di Marco Aurelio almeno nel terzo libro che è tutto dedicato alla carriera iniziale di Ottaviano risenta direttamente talvolta traducendolo dal latino in greco dell'opera dei commentari quindi siamo ben messi per capire che tipo di opera fosse un'opera molto vendicativa un'opera in cui faceva i conti con i vivi con i morti metteva i puntini sulle i dava la sua versione dei fatti in maniera minuziosa perché voleva costruire un racconto che venisse assunto come base da coloro che in seguito avrebbero raccontato quelle vicende d'altra parte la parola commentare in latino vuol dire esattamente quello vuol dire appunti per un utilizzo c'è una pagina famosissima di Cicerone nel Brutus che è un'opera scritta sotto la dittatura di Cesare finita quando Cesare è morto in cui fa un elogio sperticato e fondato dello stile letterario di Cesare di cui Cicerone aveva un gran concetto anche se lo temeva e ne sentiva la superiorità in cui dice gli sciocchi si metteranno a riscrivere la storia sulla base dei commentari di Cesare ma in realtà sono perfetti e nessuno li prenderà dunque a base per riscriverli notate subito l'ironia e l'ambiguità di questa formulazione sono talmente perfetti che nessuno li prenderà a base dunque non scrivete la storia di quegli anni ricorrendo ai commentari cesariani però la pagina ci serve non solo per capire questa finezza di Cicerone ma anche per capire bene per comprendere il senso di commentarius in greco è iupomnema è la stessa parola che vuol dire promemoria appunti ordinati e nel caso di Ottaviano di Augusto ormai Augusto in realtà quando scrive i commentari c'è quest'idea questo proponimento di segnare la strada a chi verrà dopo al termine della sua vita avendoci lavorato peraltro a lungo egli dà un testo sintetico i famosi le famose resgeste che per un colpo di fortuna sono conservate nella versione greca e nella versione latina perché una delle coppie che erano state diffuse per tutto l'impero si è salvata ad Ancara il monumento a Mancirano un altro frammento ad Apollonia quindi un testo che era destinato che fu destinato a figurare sul mausoleo di Augusto e che non è giunto a noi nella forma ufficiale del mausoleo si è salvato per una copia provinciale diciamo così in greco e in latino perché in quella provincia d'Asia Galazia Ponto eccetera la lingua dominante è il greco quindi i sudditi dell'impero che leggono sul tempio di Augusto e Roma incise queste lastre contenenti le resgeste le leggono più volentieri in greco perché la lingua è che conoscono meglio e per noi è stata una gran fortuna di averle in entrambi perché ci sono differenze sottili anche nei primissimi righi tra l'uno e l'altro testo certamente intenzionali insomma ha lavorato molto per disciplinare la storiografia che avrebbe parlato di lui ed era certo che la storiografia si sarebbe occupata di lui e cosa abbiamo in realtà perciò insisto sulla domanda ha vinto o no i conti con la storia di autori viventi al tempo suo che hanno scritto e la cui opera ci è rimasta in larga parte al tempo in cui egli era il governo abbiamo un solo autore in realtà abbiamo un autore considerato di second ordine a torto che in realtà nonostante il fastidio che si prova nel leggere alcune sue pagine per l'eccessivo servilismo nei confronti del potere quest'uomo si chiamava Belleio Patercolo ha fatto la sua carriera sotto Augusto ma soprattutto sotto Tiberio che è il personaggio chiave diciamo che campeggia in quest'opera abbiamo la prova di come la storiografia nata lui vivente si sia orientata sul racconto che egli aveva fornito una storiografia di regime potremmo dire però è un caso isolato noi sappiamo abbiamo notizie abbastanza circostanziate di tutta una storiografia di opposizione che ha stentato ad affermarsi a venire fuori allo scoperto ma che tuttavia è nata si è consolidata ha avuto una vicenda sotterranea l'esempio più clamoroso potremmo dire è quello del grandissimo Tito Livio che peraltro è nell'entourage di Augusto è un provinciale lui è nato a Padova era un giovanotto quando è stata la brutale ripartizione delle terre per i veterani di cui anche Virgilio ha patito gli effetti e molto allacrimato su quella vicenda e Livio scrive un'opera a burbe condita quindi potremmo dire una forma di storia universale incentrata su Roma comincia da molto lontano nella prefazione dice che il presente il tempo presente lo amareggia talmente che preferisce cominciare dalla Roma quadrata di Romolo e arrivare lentamente poi al tempo suo noi abbiamo la parte iniziale di quest'opera non abbiamo i libri di storia contemporanea che erano la gran parte poi dell'opera di storia contemporanea sua però abbiamo dei riassunti dei riassunti molto stringati cosiddette perioche e anche ci rendiamo conto che la sua opera poi ha influenzato altri scrittori ha influenzato scrittori di molto successivi come un senatore di lingua greca che si chiamava Dione Cassio vissuto al tempo dei Severi all'inizio del terzo dopo Cristo ha influenzato un prosatore mediocre ma prezioso amico scolaro di Agostino di Ippona quindi siamo molto dopo siamo all'inizio del quinto secolo si chiamava Orosio che ha scritto un'opera storia contro i pagani quando parla dell'età di Augusto dell'età di Cesare si ispira palesemente utilizza Livio quindi Livio lo conosciamo abbastanza nonostante si sia persa quella parte che desidereremmo poter leggere però il punto chiave il momento il buco nero della carriera del Princeps cioè le proscrizioni il massacro della classe dirigente al momento in cui nasce il patto triunvirale nel novembre dicembre del 43 avanti Cristo che era ampiamente trattato nel libro centoventesimo dell'opera in 142 libri di Livio il libro centoventesimo deve aver disgustato infastidito Augusto perché il centoventunesimo lo pubblicò quando Augusto era morto prudentemente cosa che sappiamo perché all'inizio del riassunto appunto della perioca del libro centoventuno c'è scritto e tramandato nei manoscritti che ci danno queste perioche qui editus post ex cessum Augusti dicitur di cui si dice che sia stato pubblicato dopo la morte e c'è evidente che c'è stato un attrito Augusto ironizzava con Livio chiamandolo Pompeianus come sappiamo noi questo lo sappiamo da un'opera capitale per noi ma scritta molto dopo negli annali di Tacito Tacito è vissuto alla fine del primo secolo sotto Domiziano ha fatto la sua carriera sotto Domiziano il tiranno lo dice onestamente nella prefazione delle storie però poi si è messa a scrivere quando Domiziano è morto è un meccanismo realistico che ci si riesce di capire e che autori come Tacito non occultano per niente il problema di Tacito è il rapporto col potere la libertà caratteristica del ceto senatorio romano conculcata ristretta calpestata da figure egemoniche invadenti come Domiziano come Nerone al tempo suo bene e nel libro quarto degli annali nel capitolo trentaquattresimo Tacito racconta un episodio di censura sulla storiografia avvenuto però sotto Tiberio qual è l'episodio uno storico senatore l'attività storiografica a Roma era peculiare dei senatori una sorta di prosecuzione dell'attività politica in certo senso un'attività militante questo uomo si chiamava Cremuzio Cordo scrive anche lui una storia di quegli anni degli anni in cui si era verificato il passaggio dalla libera respubblica al principato e in quest'opera quest'uomo era il padre di una donna molto amata da Seneca noi sappiamo moltissimo perché Seneca nella consolatio ad Marciam parla appunto di Cremuzio Cordo e dell'eroismo con cui la figlia ha accettato il suicidio del padre conseguente alla censura dell'opera sua in quest'opera Cremuzio Cordo a un certo punto evidentemente parlava di Bruto e Cassio i due pugnalatori che avevano l'uno organizzato e l'altro guidato la congiura contro Cesare definendoli gli ultimi romani gli ultimi non nel senso che poi fosse scomparsa la genia no gli ultimi degni di chiamarsi romani che era anche una presa di posizione fortissima rispetto alla realtà del Principato che bene o male si richiamava a Cesare come primo artefice di questo nuovo ordinamento l'opera viene portata davanti al Senato e sottoposta ad un vero e proprio processo de majestate per l'esa maestà Cremuzio si difende facendo notare che la lex majestatis creata da Augusto comporta che non si possa vilipendere sottoporre a critica né il Princeps né suo padre la lex de majestate o majestatis comporta questa limitazione forte non soltanto colui che governa ma anche suo padre sono a riparo dalla critica e dice Cremuzio ma in realtà in questo caso non dovrebbe scattare perché Tiberio è il Princeps in carica diciamo così il padre è adottivo è Augusto Cesare vittima dei cesaricidi non è né il regnante né il padre del regnante quindi sono fuori dello spettro diciamo così di azione del raggio d'azione dell'alex de majestate ma la cosa naturalmente non convince i suoi censori e in questo discorso che Cremuzio fa si richiama un po' ironicamente alla tolleranza che aveva Augusto diversamente da quello che si sta verificando in quel momento e dice Augusto chiamava scherzosamente Livio Pompeianus ma sopportava quello che lui scriveva ora invece eccetera allora questo tassello questa piccola informazione preziosa ci illumina ci illumina perché da una parte conferma che Livio ha cercato di darsi una libertà di espressione nei suoi libri convivendo con un princeps ingombrantissimo e interventista come Augusto che tiene sotto controllo gli intellettuali perché poeti storici eccetera scrivano in conformità con le direttive politiche del principato e dall'altro perché allude chiaramente ad una sorta non dico di scontro ma certamente di contatto non del tutto gradevole Augusto amava ammantare di ironia le critiche che formulava ma non erano per questo meno pesanti e Pompeianus vuol dire antagonistico rispetto alla linea vincente che è quella cesariana e poi augustea e poi tiberiana questo fa capire che Livio già pur stando nell'antourage augusteo non era totalmente addomesticato usiamo questo termine un po' così sbarazzino Cremuzio è chiaramente uno storico che si pone agli antipodi ma poi c'è un convitato di pietra potremmo dire ed è il padre di Seneca il vecchio Seneca che aveva fatto a tempo a conoscere vissuto molto a lungo aveva fatto a tempo a conoscere a vedere Cicerone vivo e attivo aveva conosciuto era spagnolo di Cordoba come il figlio ovviamente una grande famiglia tradizionalista repubblicaneggiante della provincia dell'Ispania Ulterior Cordoba aveva conosciuto Asinio Pollione che era stato promagistrato nell'Ispania Ulterior Asinio Pollione personaggio che ha un certo ruolo ha avuto grandi ambizioni a un certo momento poi è stato messo da parte Augusto lo detestava con tutte le sue forze anche perché vedeva in lui un possibile rivale anche Asinio nonostante fosse stato poi un ufficiale cesariano molto fedele si atteggiava a sostenitore della libera repubblica poi è venuto a Roma il vecchio Seneca allora non ancora vecchio lo chiamavamo vecchio in rapporto al figlio e prudentemente si è messo a insegnare retorica abbiamo di lui una buona collezione di suasorie che hanno per lo più come argomento episodi di storia romana vivente molto spesso sono materiali che poi sono confluiti erano già confluiti nell'opera storica di costui ab inizio bellorum civilium dall'inizio delle guerre civili è il titolo che il figlio riferisce in una pagina purtroppo malconcia che ci è conservata che si intitolava De Vita Patris che faceva probabilmente da introduzione all'opera storica del vecchio Seneca finalmente edita dopo la morte di Tiberio perché diciamo dopo la morte di Tiberio perché uno dei pochissimi frammenti conservati di quest'opera storica di ispirazione repubblicana era la scena di Tiberio morente che non vuole liberare concedere che gli venga tolto l'anello dal dito che denota il suo potere quindi ha visto Tiberio morire sotto Caligola c'è stato un allargamento improvviso quindi hanno tirato fuori l'opera di Cremuzio hanno tirato fuori l'opera di Seneca padre perché vi ho raccontato tutto questo perché il quadro storiografico che ne viene fuori è di una sconfitta di Augusto rispetto al proposito chiaramente determinato di influenzare la storiografia su se medesimo quindi non ha vinto la partita storiografica è di una sconfitta